Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignone. In A1, in viaggio verso Bologna, si segnalano coda a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. Ralentamenti da Calenzano e il BV1 variante in viaggio verso Nord. Provenendo da Bologna, coda all'uscita Firenze in Pluneta. Chiusa per la notte del 6 settembre, martedì, l'uscita Firenze in Pluneta per chi proviene da Bologna. In Fipilì si viaggia incolonnati per traffico tra Livorno Porto e Livorno Fipilì in viaggio verso Livorno. Situazione cantieri a Firenze. In Borgo La Croce, da oggi a domenica 11 settembre, per lavori sarà chiuso il tratto da Via della Mattonaia a Piazza Beccaria. Da stasera la seconda fase dei lavori notturni di asfaltatura in Via Pistoiese tra Via della Sala e le rampe del Viadotto dell'Indiano. Termine previsto 9 settembre. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio!